ciao e benvenuto su guadagno col blog in questo video parleremo di uno dei massimi esponenti della fuffagine colui che tutto un pallone gonfiato ma in realtà non è niente ragazzi attenzione stiamo parlando di dan loc uno dei più grandi guru del guadagno del successo se voi andate a vedere il suo canale youtube 3,71 milioni di iscritti con 1740 video se lo vedete vedete uno dei suoi video sempre vestito da fighetto parte sponsorizzazioni a parte di questo che non c'è neanche 16 anni questo è uno shorts di youtube ma se voi andate a vedere eccolo eccolo il grande guru che qui su questa sua grande scrivania con questa poltrona che parla ai suoi sudditi guardatelo come ok questo ragazzi signori è dan loc se vi siete mai chiesti ma questo personaggio è un personaggio affidabile sì o affidabile no oggi ti darò la mia esperienza ti darò le mie prove concrete c'è bisogno di fare informazione con italia visto che tanti ripudiano la formazione italiana e vanno per forza a cercarla in america ragazzi americani sono avanti anni luce sì e no su alcune cose sì su altre cose no così come ci sono i fuffaroli in italia ci sono anche in america tra l'altro so che ci sono formatori italiani che si formano da questo guru e mi chiedo che cosa prendono perché non c'è nulla da prendere e ma basta chiacchiere opinioni personali andiamo i fatti nel febbraio 2020 o 2021 o 2020 sarà stato febbraio 2020 acquistai un corso di dan loc visto che insomma mi sono fatto un po abbagliare io credo nella formazione se oggi sono la persona che sono è grazie soprattutto alla formazione detto ciao compriamo un suo corso non acquistai uno dei più costosi acquistai un corso intermedio perché volevo capire no io non è che subito ti do 3000 dollari non so chi sei sì più o meno mi sono fatto un'idea ma insomma andiamo ad acquistare un tuo prodotto questo prodotto se non mi sbaglio si chiamava il tuo primo milione chiaramente in inglese il prodotto in inglese e nonostante io non sia una cima in inglese ero pronto ad ascoltarlo in quest'altra lingua e magari avrei imparato anche qualcosa in più ma che cosa che cosa ho visto in questo prodotto che ragazzi non so se voi ci credete non so se ci crediate oppure no ma è così nel prodotto in questo info prodotto c'erano delle schermate ferme e dell'audio che si sentiva in pratica era una sorta di podcast con una schermata fissa e questa schermata cambiava una volta ogni 25 minuti e con queste e praticamente lui faceva delle interviste con delle persone che poi non erano delle persone erano dei suoi dipendenti l'intervistava era una chiacchierata questa chiacchierata sarà durata 3 4 ore e così questo era il videocorso tra l'altro appunto non c'erano le immagini loro che si muovevano che parlavano c'era questa questa schermata e tu dovevi immaginarti il tutto che era impossibile mantenere l'attenzione era veramente impossibile ma chicca delle chicche oggi così ho provato ad entrare all'interno della sua piattaforma e nella mia area members non c'è alcun videocorso se io oggi voglio andare a rivederlo non esiste più non esiste più non c'è più nulla ma se io vado questo mio profilo per fortuna almeno ci vuole prove se vado su my library no sorry se vado su settings almeno me lo dice guarda il 5 febbraio 2021 hai comprato questo prodotto ok va bene sono felice dov'è il prodotto non esiste più cancellato ok togliamo e probabilmente si sarà reso conto che era veramente una bufa una di quelle merde ma di quelle merde ragazzi quando ho aperto il video il primo video di questo video corso ho detto oh mio dio non ci posso credere che questa persona venda a questo prezzo queste robe cioè non è possibile è un'altra cosa l'ho visto fare da lui quindi sia da unlock ma anche da altre che vendono corsi anche qui in italia 2000 3000 euro ti faccio vedere quello che fanno una cosa che secondo me nel 2021 è impensabile soprattutto se io ti sto pagando ragazzi la maggior parte dei formatori fa questa cosa qui andiamo a vedere io non so allora questo è quello che fanno i formatori facciamo partire la presentazione allora molti ti parlano con una slide vedi c'è la slide che va e vedi questi punti qui e iniziano a parlarti oggi voglio spiegarsi i segreti della persuasione e iniziano ad elencarti punto per punto il problema qual è è che questi punti sono già tutti visibili ma lo insegnano alla prima lezione di comunicazione se vuoi fare una presentazione powerpoint ti dicono guarda non mettere tutta la lista perché se metti tutta la lista la gente inizia a leggere la lista e non riesce a seguirti e perché la gente è curiosa quindi vuole vedere subito tutti i punti quindi quando io ti sto spiegando la legge della reciprocità della reciprocità vedi devi sapere che la legge della reciprocità è quel tipo di legge in cui se tu dai qualcosa a qualcuno in cambio di nulla vedrai che quello di sua spontanea volontà ti ricambierà anzi nel più nel maggior parte delle case ti ricambierà con qualcosa in più esempio classico è quando tu magari sei un cameriere che quando stai portando la tazzina di caffè al al cliente anziché portare sulla tazzina di caffè gli dai anche un cioccolatino maggio allora vedrai che questo ti darà magari una mancia cose che senza cioccolatino non te la dà oppure ti da una mancia più esosa ecco mentre io ti sto parlando ora di questa legge della reciprocità magari tu ti stai facendo i cavoli tuoi stavi leggendo gli altri punti ma qui sono già stato buono perché come vedi i punti devono essere punti quindi massimo quattro cinque parole per punto no volte trovi i papiri dove tu ti perdi a leggere tutto invece cari fuffa guru comunicatori voi che vendete a 2000 euro ma ti faccio vedere ma è semplice guarda sto utilizzando le presentazioni di google è gratuito potete farlo anche voi non si sa perché non lo fate questa è la versione corretta i segreti della persuasione ciao amico mio oggi sono qui per presentarti cinque grandi segreti della persuasione partiamo col primo punto la legge della reciprocità tata 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 secondo punto fare una promessa per il finale quando inizi qualcosa un articolo inizia a scrivere un libro dici se rimani con me al fino alla fine dell'articolo ti dirò quella cosa che nessuno ti ha mai detto per tata 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 allora sì che mantieni viva l'attenzione del cliente andiamo al terzo punto la regola del 3 il nostro cervello è accattivato dalla dal numero 3 in generale dai numeri dispari se ci fai caso maggior parte degli sconti sono il 30 per cento 70 per cento ti vendo il prodotto a 97 per cento e il numero dispari e il 3 sono qualcosa di eccezionale ti svelo le tre regole segrete eccetera eccetera quindi sono fortissimi in più utilizza il sovraccarico avrete mai sentito quella barzelletta insomma quel modo di fare quando magari ha preso un brutto voto a scuola la figlia va dalla mamma e anziché dire che ha preso due dice mamma ti devo dire una cosa sai che sono incinta alla madre crolla il mondo addosso e poi dice no mamma era uno scherzo in realtà ho preso solo quattro in matematica no vabbè dai fa nulla cosa che senza quella brutta premessa la madre l'avrebbe semplicemente cazziata tolta la prestation tolte i cellulari non gli avrebbe fatto il ragazzo per quattro settimane eccetera eccetera o ci vuole tanto a fare una roba così cioè non solo mi fai pagare tanto mi fai trovare il malloppone bam tutto bello così non in più non si vede neanche la mia faccia e il programma che sto utilizzando per registrare la mia faccia si chiama cantasia costa 200 dollari se avete tutti quei soldi ve lo potete pure comprare ragazzi io non so cosa dire di questo personaggio e tutti i suoi seguaci io veramente sono sono senza parole non date una lira non data una visualizzazione questo personaggio perché veramente veramente non merita assolutamente nulla poi o magari nata di sfiga ho preso l'unico corso in tutti quelli che vende ho preso l'unico corso sfigato ma comunque sia questa era la mia esperienza spero di essere stato d'aiuto qualcuno di voi che magari aveva in mente adesso mi formula questo tizio e a quanto pare ne sa veramente tanto in realtà purtroppo sono tutti uguali prima di chiudere questo video voglio ricordarti che sto finendo di realizzare il corso su youtube cioè il corso che ti insegnerà a fare soldi con youtube diciamo ma tu chi sei per dire ma io ho quattro canali youtube di successo e forse sono l'unico in italia che posso anche dimostrarti quali sono questi canali e spesso molti hanno solo un canale molto grosso è difficile trovare persone che hanno tanti canali in più targhetta di youtube dei 100.000 iscritti questa qui è arrivata è arrivata tempo fa è arrivata tempo fa quindi insomma penso che io abbia qualcosa da dire e i miei video corsi sono assolutamente pratici niente slide niente chiacchierate andiamo a vedere sul campo come si fanno le cose bene penso di aver detto tutto ragazzi ci vediamo alla prossima